Salve a tutti ragazzi, volevo farvi vedere un nuovo video dove facevo vedere cosa aveva inventato di nuovo YouTube. Questa cosa è molto divertente e vi spiego subito. Per esempio il nuovo terremoto di Alien Shake dove c'è la persona che inizia a ballare in modo strano e poi tutti i suoi compagni lo seguono. Guardate cosa succede, se scrivete tutti Alien Shake su YouTube e fate cerca vi partirà. Vedete? Io vi saluto per questo video è tutto e iscrivetevi e lasciate un bello viaggio se vi è piaciuto l'informazione diciamo. Salve a tutti, ciao!